Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi recensiamo il primo libro della luna nera, cioè le città perdute di Tiziana Triana e che dire follettini e follettine, proverò a essere molto oggettiva, quindi partiamo come sempre nelle mie recensioni dalla trama, anche se io odio farla a differenza delle mie solite abitudini, questo video non sarà un video che questo libro fa per voi, perché dopo lo capirete e in questo caso direi di andare con una recensione strutturata in una maniera un po' più classica quindi di che cosa parla questo libro? Che ha girato penso ovunque sull'internet, insomma è stata ovviamente un'uscita molto sostenuta dal punto di vista pubblicitario quantomeno perché è appena uscita la serie Netflix, io ho visto ieri sera la prima puntata il mio commento è in carabinieri recitavano meglio, però insomma non vorrei arrivare almeno alla terza puntata che è il mio solito limite per dire mai più, mai più, mai più, non so perché sono così masochista ma siamo qua per parlare del libro che io ho letto prima di vedere la serie, ovviamente l'ho terminato da circa una settimana ci troviamo nelle campagne laziali attorno al XVII secolo e seguiamo le vicende della nostra protagonista Ade Adelaide che seguendo le orme della nonna è cresciuta imparando insomma tutto ciò che c'è da sapere sulle proprietà delle erbe, dei medicinali e lavorando come levatrice che è una figura molto tradizionale di questo periodo però un giorno seguendo uno dei bambini che doveva nascere, insomma questo bambino nasce morto e lei viene incolpata della morte di questo bambino in quanto strega dopo varie vicissitudini Ade prende il fratellino che era l'unico sopravvissuto insieme a lei della sua famiglia e fuggono nel bosco durante la fuga incontra quelle che vengono definite le città perdute ovvero delle donne che in questo bosco hanno organizzato in un punto molto nascosto una sorta di posto isolato dove solo chi è una città perduta o chi fa parte del loro gruppo può accedere dove queste donne rifiutate dalla società tacciate di essere streghe quindi tutte hanno grandissime probabilità di essere bruciate e uccise riescono a ritrovarsi e a perseguire quelli che sono invece delle insomma una vita molto diversa e riuscire a insomma sopravvivere alla società che li circonda insieme a questo contesto che non riesco a dirvi in maniera definita quanto abbia del magico dentro di sé perché è solo accennato e non ben chiarito all'interno del libro parallelamente seguiamo anche la vicenda dei benandanti che abitano nella cittadina vicina, nel piccolo villaggio vicino e che praticamente sono un gruppo di uomini che con questo scopo di proteggere il paese e di difenderlo dalle streghe organizza dei veri e propri ride colpendo e cercando delle donne che sono tendenzialmente accusate di stregoneria a capo di questi benandanti c'è Sante che è un uomo molto poco razionale arrabbiato e misogino e per tanti versi davvero un personaggio molto cruento e allo stesso tempo si contrappone con il figlio Pietro Pietro che chiaramente conoscerà per sbaglio, errore, la nostra protagonista e ovviamente tra i due potrebbe nascere qualcosa di più Pietro è un personaggio un po' più complesso rispetto agli altri perché è il personaggio che è stato mandato a Roma per studiare e diventare un medico quindi dentro di lui non ci sono gli istinti diciamo più viscerali dell'ignoranza ma anzi è un uomo di scienza e per questo lui cercherà di difendere le streghe di difendere soprattutto Adelaide e in generale si opporrà al padre e ai benandanti scoprendo cose che... allora non entro particolarmente nel dettaglio anche perché vi ho già detto un sacco di cose allora vabbè intanto mettiamo giù questa cosa qua perché mi sono già rotta le ovaie di tenerla in mano quindi tornando un po' alla modalità più classica delle mie impostazioni, delle recensioni partiamo dai punti positivi per poi esplorare invece le cose che non mi hanno convinta allora io vi dico ho dato tre stelline a questo libro ma in realtà sono due e mezzo perché apprezzo alcune cose ma il libro a me non è piaciuto ve lo dico molto sinceramente per tanti motivi quindi partiamo invece da cosa mi è piaciuto, cosa mi ha convinto questa storia è ambientata in un contesto che ha dentro di sé, porta dentro di sé ovviamente sia la tradizione che l'ambientazione storica, il contesto storico ma anche il folclore e la tradizione insomma legata alla stregoneria, alla caccia alle streghe e alla storia legata insomma alla persecuzione delle donne e delle streghe questa cosa qua a me ha conquistato ovviamente perché io cercavo da tantissimo tempo un libro valido e solido che parlasse di folclore italiano legato alle streghe perché come già vi accennavo anche nel mio podcast sulla figura della strega che ovviamente vi linko qua, per me è comunque una tradizione estremamente importante ricca che non viene mai esplorata e noi secondo me abbiamo davvero tanto bisogno di raccontare queste storie, ecco quando dico che avevo bisogno di una storia che raccontasse in maniera complessa e intensa, non sto parlando di questo libro perché in questo libro non c'è nulla di tutto questo, diciamo che ci sono vaghi accenni molto molto vaghi ma che se questo libro invece che ambientarlo nel Lazio col folclore tradizionale italiano lo ambienti a Salem con un altro tipo di nome un altro tipo di approccio è la stessa identica cosa, qua l'ambientazione e il contesto avevo detto che parlavo dopo delle cose che non mi piacevano, vabbè non esiste quindi diciamocelo chiaramente, però diciamo che comunque questo sforzo di cercare di portare un po' di tradizione italiana e folclore italiano all'interno di una storia io lo apprezzo, è la cosa che più apprezzo probabilmente di questo libro il contesto è affascinante ovviamente, è qualcosa che ti cattura e ti porta dentro la storia anzi devo dire che inizialmente mi ha proprio fregato questo libro perché all'inizio è tutto molto nebuloso e ci sta secondo me perché devi entrare dentro questa storia, devi entrare in tutto quello ecco dopo comunque rimane nebuloso, però comunque apprezziamo lo sforzo è un libro comunque secondo me dallo stile molto godibile e piacevole si fa leggere da solo praticamente la sua storia, ciò che ne deriva della sua trama secondo me è comunque qualcosa di piacevole, di intrattenimento insomma letto con una certa leggerezza è sicuramente molto più piacevole che altre vicende ecco a chi piacciono i romanzi storici non troppo diciamo indagati per essere gentili questo è sicuramente un libro che risulta piacevole allo stesso tempo devo dire che comunque vedere alcune dinamiche soprattutto di gruppo soprattutto tra donne e non solo per me è stato comunque apprezzabile il risultato non è sufficientemente forte a mio parere però comunque ci sono alcuni discorsi che ho molto apprezzato c'è proprio un passaggio dedicato all'ansia dove secondo me per affrontare le piccole cose insomma ci si dà dei micro obiettivi insomma è un buonissimo insegnamento secondo me come anche le dinamiche interne al gruppo non si nascondono chiaramente le difficoltà, le gelosie, le differenze eccetera però comunque c'è questa sensazione che il gruppo sia più importante cioè la sorellanza sia qualcosa di più importante che va sostenuta da tutte ecco alcune risoluzioni però a mio parere risultano estremamente semplici estremamente retoriche è brutto da dire ma è così e soprattutto hanno il realismo di Fantaglierò quindi non lo so sono molto combattuta e fondamentalmente penso che le cose che io ho apprezzato finiscono qua mi è piaciuto molto ecco ecco l'altra cosa il rapporto tra Abe e il fratello che secondo me è un rapporto molto sincero e molto forte si vede che lei tiene a lui tantissimo tranne alla fine che non frega niente più di nulla però devo dire che almeno sono cose che ho apprezzato però devo dirvi che fondamentalmente le cose buone sono finite qua perché tanto non ce la faccio a trattenermi e devo parlarvi delle cose che secondo me non funzionano questo è un libro semplice è un libro dove tutto è estremamente ridotto all'osso i personaggi hanno la semplicità e il piattume di una sogliola le dinamiche sono talmente non riesco neanche a descriverle sono talmente quasi innocenti, naive, abi proprio lineari che non lo so poi i cliché abbondano c'è un'esecuzione davvero non lo so ho molti dubbi anche sull'impostazione della narrazione più che sullo stile lo stile secondo me è apprezzabile non è probabilmente uno stile di scrittura che io apprezzo tantissimo ma è soprattutto causato dall'esecuzione cioè l'esecuzione di questa trama che include tantissime cose e dopo ci arrivo fondamentalmente è disastrosa ci sono alcuni flashback che però servono solo a fare da grandi spiegoni e poi a un certo punto ci sono tutte queste coincidenze che guarda caso succedono proprio nei momenti in cui ci serve ci sono dei piani banali e sciocchi all'inverosimile allo stesso tempo secondo me si perde molto di ciò che ci è stato raccontato sui personaggi man mano che la storia ha bisogno di evolvere e questa cosa snatura tantissimo quelle poche informazioni che noi sappiamo su questi personaggi che sono veramente piatti e a dei livelli che la pimpa in confronto è, non so, indagabile da Freud non lo so ho veramente tanta poca convinzione nel modo in cui è stata impostata la storia anche l'ambientazione stessa che vi accennavo prima l'ambientazione è campagna laziale 1600 circa e vi devo dire se non me l'avesse detto se non ci fosse di mezzo che c'è questo continuo rimando a Roma e a storie romane eccetera io non avrei capito assolutamente il contesto non ce n'è in alcun modo non c'è forza nell'atmosfera non si crea nessuna atmosfera cupa perché stanno accadendo cose astroci eppure non se ne percepisce la gravità allo stesso tempo sono luoghi ideali immaginari quasi neanche locus a menos perché non lo sono assolutamente anche se un pochino questa casa dove si ritrovano le città perdute potrebbe tranquillamente ricordarlo ecco secondo me sembra quasi che ci fosse un'intenzione talmente timida e talmente poco convinta che tanto alla fine bastava mettere degli accenni di tutto e andava bene e anche in questo caso i personaggi sono fondamentalmente sono talmente stereotipi cioè Ade la nostra Ade è la Mary Sue fatta e finita con tutte le sue caratteristiche quanto pare questa allevatrice bravissima che ha imparato tutto delle erbe non si vede nulla di tutto ciò dall'inizio alla fine sembra completamente rincoglionita appena incontra Pietro tanto che questo rapporto col fratello per lei è imprescindibile è qualcosa di qui e là su per giù per trafra poi alla fine non gliene frega niente del fratello perché c'è Pietro cioè anche queste cose qua sono dettagli che secondo me vanno tenuti in considerazione allo stesso tempo Pietro e in realtà Pietro, Sante e le figure maschili anche quella di Filippo che è il prete parroco credo mi ricordo vabbè è la figura ecclesiastica devo dire che risultano secondo me molto migliori nella loro indagine per quanto molto semplice rispetto anche alle figure femminili perché alla fine vediamo tanti personaggi diversi ma soprattutto vediamo il conflitto vero tra ciò che si vive come un'imposizione dall'esterno e ciò che invece si prova dentro percependone l'ingiustizia soprattutto in questi personaggi perché Pietro e Filippo sono effettivamente gli unici due personaggi che si pongono tanti dubbi ma anche Sante stesso che è il cattivo possiamo dire di tutta questa questa narrazione ha più spessore che la protagonista e le altre donne cioè noi conosciamo fondamentalmente le città perdute che sono questo gruppo di donne fondato da Tebe che è diciamo la matriarca di questa società segreta possiamo definirla e non so come dire non sappiamo nulla di loro sappiamo poco sappiamo un po' del loro passato della loro storia che le ha portate lì ma non c'è alcun tipo di spessore è proprio non lo so i personaggi sono deludenti in una maniera tragica l'ambientazione è altrettanto e l'ambientazione mi fa venire in mente un'altra cosa come è trattata la stregoneria e la magia qua dentro cioè la componente stregonesca è proprio ridicola è qualcosa che è palesemente fin da subito una farsa e capisco l'intenzione perché bisognava renderla manifesta ma allo stesso tempo ci sono elementi di realismo magico ci sono elementi che ti mettono il dubbio però sono talmente stupidi e talmente proprio abbozzati che hanno quella semplicità che toglie invece tutto il potere dell'ambientazione del folklore legato alla stregoneria in Italia anche proprio l'aspetto e l'elemento che parla della tradizione e del tramandare una conoscenza femminile che è legato a dei saperi che non vengono considerati dagli uomini alle volte o a dei ruoli che sono sempre storicamente stati più vicini alle donne come quello appunto della levatrice ma anche delle cure quello che precede ovviamente la farmacia ovvero la cura tramite le erbe perché erano le uniche conoscenze che avevano a quei tempi ecco tutte queste cose sono veramente banalizzate al massimo e poco chiare cioè il focus era mettiamo l'elemento magico non lo mettiamo non si sa nel dubbio boh buttiamolo lì allo stesso tempo anche la questione dei benandanti che è molto importante legato al tema delle streghe sembra veramente insomma è paragonabile a un incontro di casa pound e non lo so sono veramente sterrefatta alibita perché riponevo moltissima fiducia tra l'altro la bibliografia legata alla scrittura di questo romanzo da parte dell'autrice è abbastanza rilevante e avrebbe avuto tanti elementi per poter esplorare le sue dinamiche leggermente più in maniera più credibile invece no zero non c'è nulla di tutto questo è tutto semplice lineare e abbozzato cioè la fascinazione che noi abbiamo legato alle tematiche all'ambientazione di questo libro scompare dopo tre capitoli dopo tre capitoli secondo me è molto chiaro quanto ci mancheranno questi elementi che ci hanno in realtà traghettati dentro è vero anche che la stregoneria e comunque la parte della caccia alle streghe rispecchia tutti gli elementi storici e i contesti storici che si possono apprendere dalle fonti su quello è chiarissimo il problema è che a parte averli inseriti e messi lì in fila non c'è nessuna esplorazione non c'è nessuna contestualizzazione vera e ripeto se fosse stato ambientato in un'altra parte del mondo con nomi diversi invece che ben andanti poveri dementi sarebbe stata esattamente la stessa cosa cioè anche e qua proprio non riesco a essere lucida in questi aspetti però anche insomma l'indagine sul ruolo femminile sull'aspetto più antropologico legato alla figura della donna e di conseguenza anche della strega è veramente risibile cioè è il festival delle ovvietà sembra il femminismo alla frida ecco che è una cosa che io non riesco a sopportare ci sono tante nozioni molto semplici che secondo me sicuramente sono utili per traghettare verso certe tematiche ma poi le tematiche rimangono a quel livello super superficiale non c'è nessuna indagine più approfondita non c'è un'ispezione riguardo a questi ruoli legata ai suoi personaggi legato a che cosa significa fondamentalmente reprimere le donne chiamando le streghe e riducendole a roghi che bruciano parliamo di questo anche le città perdute che secondo me è un nome splendido per raccontare che cosa voglia dire essere una donna isolata e abbandonata messa ai margini eccetera è molto adatto è molto calzante ma è vuoto c'è un termine vuoto è un bel termine per descrivere il nulla in questo libro in questo romanzo sono parecchio arrabbiata me ne rendo conto c'è proprio l'aspetto diciamo più femminista quindi legato alla vicenda storica al contesto nel quale insomma la stregoneria diventa non solo un processo di isteria collettiva ma diventa proprio repressione femminile è completamente troppo superficiale non ha alcun senso se togliamo alcuni elementi e togliamo alcune diciamo etichette che noi diamo ai nostri personaggi quindi la strega il benandante eccetera non cambia nulla se li sostituiamo con altro sopravviviamo lo stesso in questo caso ci dà fastidio perché parliamo di donne legate alla stregoneria finisce lì però questa indagine è veramente troppo troppo superficiale io non riesco a comprendere soprattutto all'interno del libro lo capisco di più sulla serie tv perché ci sono una serie di standard codici e linguaggi che vanno un po' asciugati assorbiti ma nel libro no nel libro è un'occasione sprecatissima altro elemento che secondo me è davvero problematico all'interno del libro è che è vero che questo a quanto pare è il primo libro di una trilogia una duologia non ho ben capito però vengono aperti 800 milioni di storyline Ade entra nelle città perdute e entra insieme al fratello sia lei che il fratello entrando in questa comunità in questo gruppo aprono diverse storie line personali anche una legata a Valente che è il fratello molto importante peraltro allo stesso tempo ci sono tutte le storie delle città perdute allo stesso tempo c'è Pietro che inconsapevolmente ha qualcosa alle sue spalle di davvero davvero grave importante così ci viene detto introdotto addirittura ne parlano la madre il padre eccetera Sante allo stesso modo ha la sua storia ha fondato questo gruppo dei benandanti anche i benandanti dovrebbero comunque avere una loro profondità all'interno di queste dinamiche e dove è tutto cioè non c'è nulla la storia segue solamente i vari cliché il suo racconto lineare e poi queste porte che sono state aperte non servono nulla ai fini della narrazione finale alla fine del primo libro abbiamo aperto cinquemila porte senza aver mai speso un po' più tempo su nessuna di queste storie o con una breve spiegazione sul perché diventano rilevanti all'interno di tutto il contesto cioè io non capisco a questo punto la necessità di aprire così tante strade ipotesi ficcare dentro elementi fantastici elementi del realismo magico elementi del romanzo storico elementi effettivamente della bibliografia e della storiografia italiana perché cioè se non si riesce a fare bene nemmeno una di queste cose perché buttarci dentro tutto è questo il vero calderone della strega cioè l'aver buttato qualsiasi elemento veniva in mente qualsiasi parte qualsiasi bozza eccetera dentro tutto questo bollirone che non ha alcun senso peraltro cioè ai fini della narrazione tutte queste micro storie le hanno questi ipotetici misteri legate a tutte le figure che compongono questo pantheon gigantesco di personaggi quando non si sa gestire nemmeno la caratterizzazione della protagonista è inutile a mio parere è completamente inutile fuorviante e davvero il lettore si trova a leggere ok questo c'è questa storia qua che vuol dire che cosa significa perché è importante anche ok c'è questo grande dubbio che grava sulle città perdute perché non lo indaghiamo perché non lo esploriamo perché è rilevante che cosa ci interessa nulla ma in fondo nulla cioè questo libro è aprire strade verso il nulla io sono sinceramente convinta di diverse cose riguardo a questa lettura la prima è che questo libro sia arrivato dopo la sceneggiatura so che forse non è così o è stato dichiarato che non è così ma sembra proprio prendere la sceneggiatura cercare di riempire i buchi che sono ovvi perché la scrittura per il cinema e quella per la letteratura in realtà i libri è diversa quindi insomma prendiamo questo scheletro della sceneggiatura ci buttiamo dentro un po' di filler perché dobbiamo comunque fare un libro e quindi deve filare allo stesso tempo è arrivata Pipi e allo stesso tempo però cioè non abbiamo fatto un grande lavoro abbiamo veramente reso tutto ciò come era nella sceneggiatura quindi pieno di buchi e non lo so non riesco a capirne le intenzioni cioè capisco l'intenzione perché è un prodotto che è vendibile in maniera molto pop e ripeto il femminismo alla frida va tantissimo in questo periodo perché è assimilabile facilmente digeribile quindi a nessuno dà fastidio non lo so sono molto infastidita da questi aspetti trovo che questa sia proprio un'occasione buttata via buttata via tantissimo perché bastava poco per fare una buona interpretazione della sceneggiatura l'altra cosa che ovviamente mi dà molto fastidio è il potenziale cioè il potenziale sia della storia che delle tematiche trattate possono essere un bellissimo e meraviglioso specchio anche per la società moderna perché c'è tutto cioè come in ogni storia di stregoneria dentro c'è davvero ciò che rappresenta poi l'umanità il mondo femminile e non solo e questo aspetto lo evidenzia bene cioè ci sono due parti contrapposte ma non del tutto contrapposte non è donne contro uomini ci sono molti uomini molti ci sono alcuni uomini alleati o che comprendono la gravità di certe azioni di un certo irrazionalismo della psicosi collettiva eccetera ma allo stesso tempo è veramente tutto molto superficiale e questa cosa io boh ci sono anche un paio di frasi che sono veramente al limite al limite sul filo del rasoio vicino al plagio cioè io ho riconosciuto davvero diverse frasi ed elementi che sono praticamente la copia a carbone di Terry Pratchett la butto lì cioè poi meglio andare a pescare lì che da altre parti però devi rielaborarlo un pochino meglio non basta tradurre su google translator butto lì peccato allora davvero peccato perché io cercavo davvero qualcuno che approfondisse il tema della stregoneria in Italia e della caccia alle streghe in Italia perché abbiamo tantissimi elementi che secondo me che non hanno nulla da invidiare alle storie che provengono da altri paesi anzi abbiamo un folklore così ricco così vivido e così fondamentale per la nostra storia che secondo me insomma è un'occasione buttata nel cesso cioè proprio è quello che mi fa arrabbiare di questo libro anche perché secondo me a un certo punto noi dobbiamo iniziare a fare i conti con l'aspetto antropologico della mentalità macista e maschilista del nostro paese dobbiamo capirne le ragioni da dove proviene da dove inizia da come nel corso della storia si è sviluppato e questa sarebbe stata un'occasione perfetta perfetta invece l'abbiamo presa piegata in 800.000 pallozzi e buttata nel cesso perché non lo so niente io penso che tutto ciò che avevo da dire fondamentalmente è qua sono molto dispiaciuta come si vede tanto che mi porta a pensare che forse c'è proprio bisogno di un'altra puntata del podcast dedicata alla stregoneria italiana è un suicidio ovviamente me ne rendo conto però insomma io trovo che davvero è un'occasione sprecata non riesco a dirle in un'altra maniera perché aveva così tanto potenziale ma perché così male perché è stata fatta così ma soprattutto perché nessuno se ne è accorto perché nessuno si è reso conto che questo libro aveva bisogno di un editing molto massiccio e aveva assolutamente bisogno anche di qualcuno che dice se per favore cerchiamo di migliorarlo questo libro ecco non lo so sono molto molto dispiaciuta ma anche delusa ecco e quindi basta l'ho già detto 800 volte direi che penso che sia chiaro qual è il mio pensiero riguardo al libro e di più non posso dire voglio sapere se l'avete letto intanto cosa ne pensate voi che parere ne avete vorrei dirvi che lo consiglio a come faccio di solito se ci sono elementi che vi possono piacere per me non è un libro che consiglierei soprattutto perché ho paura che riveli una visione un po' forviante del tema della stregoneria in Italia per tanti versi quindi insomma sono dispiaciuta davvero e mi dispiace raccontarvelo in questi termini e in maniera così dispregiativa anche perché davvero questo progetto in generale è un progetto che in questo paese secondo me è importante perché comunque sia il romanzo ma anche la serie tv la serie tv è stata fatta con una produzione unicamente affidata alle donne registe donne un cast prevalentemente femminile eccetera eccetera quindi aveva un sacco di potenziale però allo stesso tempo io sono anche una che non vuole premiare la mediocrità perché non è la quota rosa che salverà mai questa situazione è il progetto fatto decentemente che secondo me riesce un po' a sdoganare alcune cose che nel nostro paese sembrano insormontabili ecco sono veramente molto delusa quindi un grande dispiacere questa è un po' la mia recensione i miei pensieri su questo libro e insomma ringrazio sonzogno perché me l'ha voluto mandare non so più di questo non posso dirvi direi che ci sentiamo giù nei commenti se volete commentarlo con me se l'avete letto se avete intenzione di leggerlo eccetera insomma fatemi sapere anche se potrebbe interessarvi la terza puntata bonus sul podcast della strega direi che per oggi è tutto io vi ringrazio per essere stati qui insieme a me e direi che ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao